Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Non ce la faccio. Venga, l'accompagnone. Si, si è. Intanto facciamo che ci sediamo. È una busta così me li conservo. Come una busta? E così mi vado a sapere i nomi in realtà. Tagliateli poco. Calma. Poco, sono lunghissimi. Li posso toccare l'ultima volta. Guardi che cosa ho recuperato. Poi raccogliamo e mettiamo. Questa è una violenza psicologica. Mi sembra che quella invece di essere una sedia normale è una sedia elettrica. Proprio. Mamma mia. No! 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 Io me ne vado, io me ne vado. Ciao a tutti. No! 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 Adesso lei si siede con calma e lascia finire questo taglio che sembra l'acquaresma. Lunghissimo. No, manca a fare così però che dai. Così esagerate. Sono una bambina di 10 anni. Questo è stato una bascadina. Questo si va esagerato. No, così è troppo! No! 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 Grazie a tutti.